Devo dire che un'iniziativa di questo genere è senz'altro importante e meritoria, anche perché l'orientamento del legislatore è verso la fisica moderna come argomento fondamentale, importante dell'ultimo anno del liceo. Io ho fatto il liceo scientifico, a stento siamo arrivati a seconda equazione di mano, le onde elettromagnetiche non esistevano e non è che l'ho fatta molti secoli fa, giusto qualche anno fa. Invece è estremamente importante questa cosa perché quest'anno per esempio sono 100 anni del modello di Bohr, è datato il modello di Bohr, quindi è estremamente importante e opportuno che si studino questi argomenti. Poi c'è un altro argomento contingente. Per certi versi si ritiene, si è ritenuto e lo ritenevo anch'io, che la meccanica quantistica rappresentasse una teoria completa, consolidata. In realtà basti considerare che cosa è accaduto un paio di anni fa, sono stati attribuiti ancora dei riconoscimenti, premi Nobel, al lavoro di meccanica quantistica. Quindi è un terreno fertile, fecondo, importante. Pensate alla criptografia, pensate a quello che si chiama l'entanglement, sono tutte conseguenze di quello che diceva il professore Bolverino, che illustrerò la prossima volta perché questo stimola curiosità, il gatto di Schrödinger. Che cosa rappresenta e che cos'è? Questo rappresenta una potenziale risorsa da tutti i punti di vista. Perché quando si parla per esempio di criptografia quantistica, si parla di trasferimento di dati estremamente sicuri. Sicuri significa che se noi facciamo una transazione, la nostra carta di credito oggi, la probabilità che qualcuno individui i dati è elevata. Se questa trasmissione avvenisse con strumenti quantistici, la probabilità che ciò si realizzi, cioè di decodifica, è praticamente nulla. E questo è un fatto importante. Questo significa che non è ancora stato fatto naturalmente, è in evoluzione, ma c'è molta gente che lavora a livello teorico in questi ambiti. Quindi è un settore assolutamente importante. E badate bene, la mia visione di questi argomenti è la seguente. Oggettivamente possono presentare una difficoltà tecnica, matematica, cioè la matematica della meccanica quantistica è quella più complicata che uno può incontrare, anche dal punto di vista di studente all'università, perché poggia pesantemente su quella che è l'analisi funzionale, cioè studi di spazi vettoriali infiniti dimensionali, con tutta una serie di complicazioni. Però, però, uno può trattare alcuni esempi, esempi campione, prototipo, che possono essere studiati con strumenti semplici, molto molto semplici, e però dall'analisi di questi problemi semplici viene fuori tutta la ricchezza di questa teoria. E questo si può fare. È un tentativo, un esperimento che abbiamo fatto, sembrerebbe pure riuscito durante il PLS, che vi riproporrò la prossima volta. E la prossima volta è la meccanica quantistica all'opera, in atto, che molto probabilmente, io non so la vostra provenienza, formazione di laurea, però credo che in un A049, 50 e 50 mediamente, quindi ci sta gente anche laurata in matematica, e le persone laurate in matematica, se hanno visto qualche cosa di meccanica quantistica, proprio di striscio se l'hanno vista, accidentalmente. Quindi, da questo punto di vista, è estremamente importante che io vi fornisca alcuni elementi, se non altro per contestualizzare l'argomento. Poi, dipende da voi, dalla vostra curiosità, dal vostro interesse, provare, come dire, ad ampliare questo panorama. Ora, vabbè, il professore Pollorini l'ha presentato, io sono diventato ricercatore di fisica teorica. È il primo insegnamento che ho avuto in istituzioni di fisica teorica, cioè meccanica quantistica, meccanica quantistica e relatività. E questa cosa è andata avanti per molti anni, poi sono diventato professore, però comunque di struttura della materia. Ma ho continuato ad avere l'insegnamento di meccanica quantistica in diverse forme, e attualmente sono docente di meccanica quantistica, di istituzioni di fisica teorica, la nuova istituzione di fisica teorica all'università. Quindi ho una competenza più che ventennale su questo argomento. E questo mi dà soltanto un vantaggio, poi, vabbè, insomma, dipende da tanti... Cioè, ho il vantaggio di conoscere la storia, come va a finire, quindi vi posso offrire un panorama che può essere utilizzato per i ragazzi. Cioè, io penso a voi in prima approssimazione, però come portatori di informazione verso i ragazzi. Questa è una cosa importante. Questo non è tanto vero in quello che diremo oggi, perché quello che diremo oggi è di carattere assolutamente più vago, talmente vago che gli esperimenti che discuteremo sono esperimenti che in qualche modo si è cercato di spiegare attraverso la fisica classica. Ma invece è molto più importante per quello che accadrà la settimana prossima, quindi io cercherò di mettervi in condizione di riportare ai ragazzi qualche cosa di quantitativo, non soltanto qualitativo. Quello che è qualitativo è quello che più o meno discuterò oggi. E quello che discuterò oggi, appunto, seguendo l'indicazione del professore Polverino, è in qualche modo per quale motivo nasce la meccanica quantista, da dove nasce, per quale motivo, storicamente viene fuori questo argomento. Allora, dovete pensare che fino a metà dell'Ottocento, seconda metà dell'Ottocento, 1870 più o meno, le conoscenze della fisica erano essenzialmente legate a meccanica, termodinamica, ottica. L'elettromagnetismo cominciava a prendere, vabbè, a parte l'acustica, l'elettromagnetismo cominciava a prendere piede. Però per questi tre ambiti che ho raccontato prima, c'era una conoscenza profondissima degli argomenti. Profondissima significa, in meccanica, e voi l'avete studiata all'università, non solo F uguale a MA si era studiata in tutti i modi, in tutte le forme, ma si era passata a formulazioni più sofisticate, quelle della meccanica analitica, la grangiana, miltoniana, formulazioni matematicamente sofisticate, che avevano una certa valenza, che a mio parere però erano tecnicamente più complesse, però non aggiungevano nulla di nuovo al precedente. Questo per dire che non si sapeva più che fare. Allora divertiamoci a costruire modelli matematici più profondi, più complessi, più articolati, facendo la fortuna dei fisici matematici. Per quanto riguarda termodinamica, è tutto ben definito. Si formula il secondo principio all'inizio dell'Ottocento, verso la metà dell'Ottocento viene formulato il primo principio perché si capisce che il calore è una forma di energia. Tutto apposto. L'Ottocento è chiarissimo, se voi pensate ai nomi dell'Ottocento, Fermat, Huygens, si parla del 1600, cioè veramente era tutto più che definito. È chiaro che l'Ottocento, come si dice in gergo, in maniera improvvata, l'Ottocento fisica, cioè quella che è dell'evoluzione di Maxwell, non era nota, però certamente i fenomeni erano noti. Questi sicuramente. Bene, a questo punto, tutti felici, tutti contenti, e a questo proposito vi dico anche che Kelvin, quello dei gradi Kelvin, quello del secondo principio, diceva la fisica ha raggiunto il top. Quello che adesso si tratterà di fare è studiare che cosa accade alla quarta cifra decimale. Lui stava dicendo non abbiamo nient'altro da fare, è un problema tecnico, tecnologico, da un lato tecnico matematico, tecnologico, strumenti più sofisticati, ma certamente non c'è più niente da fare, tutto chiaro, tutto consolidato. Bene, a questo punto che cosa accade? Nasce l'elettromagnetismo. L'elettromagnetismo rivoluziona alcuni aspetti della meccanica. Perché li rivoluziona? Li rivoluziona perché uno si accorge che le onde elettromagnetiche non sono altro, non è altro che luce. La luce diventa un fenomeno elettromagnetico. E questo sconvolge le cose, avete visto la settimana scorsa, sconvolge le cose perché se la luce è un fenomeno elettromagnetico e applicassi tutto quello che so sul secondo principio della dinamica dell'attività galliriana, mi trovo di fronte a un assurdo. crolla la meccanica classica, nasce la formulazione relativistica. La meccanica ristretta nasce nel 1905. Nel frattempo esistono altri dati sperimentali, si accumulano dati sperimentali legati alle onde elettromagnetiche. Perché questo è stato il momento cruciale della nascita sia della relatività che della meccanica quantistica. Quali dati? Allora, un dato che sicuramente conoscete è il dato che viene dall'indagine spettroscopica. Che significa spettroscopia? Allora, pensate di prendere un pezzo di materiale, un metallo, e inviate della radiazione elettromagnetica su questo materiale. Allora, che cosa vi aspettate? Vi aspettate che il sistema, il metallo, assorba questa radiazione. Che radiazione assorba? Tutta quanta. Non c'è nessuna ragione per la quale il vostro metallo debba essere selettivo. Non c'è ragione. Questo non accade. Vi accorgete che è molto selettivo e schizzinoso, il metallo. Accetta solo certi tipi di radiazione. E questa cosa ha anche un'altra particolarità. Questo tipo di atteggiamento è duale. Cioè, se io sottopongo il mio metallo ad emettere radiazioni, ce lo riscaldo per esempio, il metallo non emette radiazioni qualsiasi, ma solo certo tipo di radiazione. Questi sono dati sperimentali. Questi sono i dati della spettroscopia. Quindi, quello che accade, e questa è la prima volta che accade in fisica, si individuano dei numeri. Uno, due, uno conta le radiazioni emesse, uno, due, tre, quattro, non continuano, solo alcune. Quindi il fatto di poter contare è un fatto che accade in seguito all'introduzione di strumenti tecnologici e in seguito all'elettromagnetismo. Questa parte della quantizzazione del poter contare è un fatto assolutamente importante. Allora, il problema qual è? Cerchiamo di capire per quale motivo accade un fenomeno di questo tipo. Allora, per fare questo io dovrei cercare di capire come è fatto il mio metallo. 1880, non si sapeva come era fatto il metallo. Allora, io vi devo cercare di spiegare come si fa a capire come è fatto un metallo e le caratteristiche degli elementi che stanno all'interno del metallo. E questo sistema di problemi lo possiamo classificare come natura della materia. Come è fatto l'atomo? E questo è il modello di Thomson. Che cosa c'è dentro? Questo lo dice Thomson. L'esperienza di Millikan, che è un colorlario, perché dice vabbè, la carica elettrica tu non la sei misurata, ti dico io come si misura e quindi è un corollario a Thomson. Poi c'è il modello di Rutherford. Ma soprattutto la sintesi di questo è il modello di Bohr. Il modello di Bohr è un primo modello fenomenologico, però di natura quantistica. D'accordo? Allora, questo è un punto. Una volta fatto questo, una volta che uno ha capito come è fatta la materia in maniera piuttosto vaga, fase successiva, l'interazione della radiazione con la materia. E qua vengono fuori per esempio la spettroscopia, viene fuori l'effetto fotoelettrico, viene fuori il problema del corpo nero. Sono tutti aspetti estremamente importanti legati a questa interazione. E anche questi noi cercheremo di individuare, di discutere. E poi c'è un'ultima fase. Come si comporta la radiazione e come si comporta la materia. Questo è l'aspetto più delicato. Questo avviene un po' più avanti intorno agli anni 1920 attraverso una serie di esperimenti, per esempio Compton, attraverso Davidson e Germer. Questo addirittura è successivo all'iposi De Broglio e De Broglio come dicevamo. Bene, questo tipo di risultato è quello più delicato da comprendere. Perché mentre i precedenti più o meno non riesce a capire che cosa significano, questa dualità è la cosa più delicata. E quindi arriveremo a valle di questo percorso e parliamo di questa dualità. Allora, vediamo un attimo questa struttura della materia. Io ho preparato delle depositive che qua vi lascio, però io previsco essenzialmente parlare. Poi queste cose ve le lascio qua e ve le vedete. Allora, 1897, questo signore Thompson conduce un esperimento a Cambridge utilizzando questo dispositivo che sta qua, questo oggetto qua, che è un dispositivo esattamente quello che ha usato lui. Se voi andate e girate a Cambridge e andate a vedere questo esiste, si trova al Dipartimento di Fisica a Cambridge, lo trovate, sta messo libero là, qualcuno lo guarda e dice aspira, questa cosa ha fatto questo esperimento. Allora, che cosa ha fatto? Thompson in quel catodo là sopra sostuisce il catodo con diversi metalli, ne usa di diversi tipi. A un certo momento produce una differenza di potenziale e c'è un foro là, vengono accelerati e che quel foro è a potenziale positivo, lui non sapeva un elettrodo, vabbè, escono queste cose, queste palline fuoriescono attraverso una regione in cui è presente un campo elettrico. Sono delle lame di un condensatore, un campo elettrico è essenzialmente costante, naturalmente, sapete l'ipotesi di campo costante, qua non è fortissima, dipende dalle dimensioni, così, ma supponiamo che sia costante. Allora, queste particelle sono cariche, vengono deflesse, vengono deflesse e raggiungono il rivelatore in un qualche punto, producendo uno spostamento, lo vedete, quel piccolo segmentino che sta là sopra. Allora, che fa Thompson? Dici, vabbè, adesso proviamo a calcolarci la deflessione. Ovviamente, la deflessione dipenderà dai parametri delle particelle che attraversano queste lamine. E di questi parametri, un parametro era noto, era ovvio, dove esserci la massa, perché applico F uguale a me, la massa ci sta sicuro. Però, però, lui si accorge che le particelle vengono deflesse e quindi sono anche cariche. E allora, quando avete una particella carica che si muove all'interno di un campo elettrico costante, la particella subisce una forza costante, è tipo la forza peso. E quindi, le particelle vengono deflesse. Primo risultato, e qua si vede da questo disegno, la deflessione è verso il basso, perché la parte sottostante tiene un segno più. Allora, questo significa che le particelle sono cariche negativamente. Quindi, il primo risultato a cui arriva lui in questa configurazione è che questi oggetti emessi sono particelle cariche negativamente. Ignorava tutto. Allora, a questo punto lui che cosa fa? Cerca di ricavare dalla deflessione i parametri che gli mancano. Cioè, la massa di questo oggetto è la carica di questo oggetto, di questa pallina che attraversa il sistema. Facendo tutti i calcoli tramite F uguale a MA. Cioè, utilizzi il secondo principio e la dinamica. Quindi, non ci sono complicazioni relativiste che non sa neanche che cosa è la relatività all'epoca. E quindi applica l'F uguale a MA. Però è sfigato, ha una sfortuna. La sfortuna qual è? Che se uno scrivesse banalmente MA uguale la forza e la forza è uguale Q moltiplicato il campo elettrico, l'accelerazione è proporzionale al rapporto Q su M. Cioè, la sua formula contiene Q su M come rapporto. Non ce l'ha separati. Non ha questi due oggetti separati. E quindi, purtroppo, è in grado di calcolare il rapporto Q su M. Allora, qua ci sono i dettagli. Ne possiamo parlare se volete, ma è un calcolo estremamente semplice. i dettagli stanno qua sopra. Vi faccio vedere soltanto ecco qua la formula finale. Sono D1 e D2 le deflessioni. D1 è la deflessione all'esterno del tubo dove la particella si muove di modo rettilineo uniforme. D2 è quella all'interno del tubo. E all'interno perché vedete è un mezzo AT1 quadro quindi un moto uniformemente accelerato e all'interno delle lamine c'è un campo elettrico e quindi c'è un'accelerazione costante e quindi D1 nelle lamine e D2 all'esterno. Conclusione se sommate questi oggetti vedete c'è Q su M da tutte le parti. Lui se lo calcola questo Q su M vabbè si calcola il Q su M e vede che è lo stesso oggetto per tutti quanti i sistemi. C'è cambia il materiale cambia tutto e Q su M rimane lo stesso e quindi battezza la particella che ha questo rapporto Q su M la chiama elettrone. E questo è un fatto cruciale fondamentale. Quindi all'interno della materia esistono ci sono queste particelle cariche negativamente. Vi devo dire una cosa importante una grande intuizione di Thompson perché l'esperimento così è veramente semplice. Se vedete però le formule qua avete dei parametri che sono L quanto è lungo D cioè la parte interna e parte stessa tutto misurabile campo elettrico lo conosco Q su M lo devo calcolare però compare V con 0 e V con 0 è la velocità con la quale le palline partono attraversano cioè la velocità iniziale con la quale entrano all'interno delle lamine V con 0 non lo sapevo come faceva a calcolarlo e lui ha qua un'intuizione geniale qual è l'intuizione? Cerca di bilanciare l'effetto del campo elettrico con un campo magnetico cioè introduce all'interno delle lamine anche un campo magnetico in maniera tale che il campo magnetico bilanci l'effetto del campo elettrico il campo elettrico ha delle effette verso il basso il campo magnetico facciamo delle effette verso l'alto in maniera tale però che il fascio si muova orizzontalmente lui lo sapeva quando si muoveva orizzontalmente perché aveva aveva lo schermo che cosa accade se il fascio si muove orizzontalmente? Significa che l'effetto del campo elettrico è bilanciato completamente dal campo magnetico significa la particella si muove di moto elettrino e di uniforme e quindi che cosa fa lui? gira la manopola del campo magnetico fino a quando il fascio si muove orizzontalmente il campo magnetico sa quanto vale utilizza la forza di Lorenz perché il campo elettrico è uguale alla velocità moltiplicato B facciamo tutto ortogonale la geometria era così semplice e quindi V è dato dal rapporto campo elettrico su campo magnetico il campo elettrico lo conoscevo il campo magnetico ha girato la manopola ha calcolato V con Z questa è una cosa geniale e lui con questo riesce a calcolare tutto perfettamente quindi è stata un'intuizione fondamentale ora come sottoprodotto di questo esperimento di Thomson più andiamo alle conseguenze come si può determinare il rapporto Q su M cioè come da Q su M io posso calcolare soltanto la carica o soltanto la massa questo lo fa Millikan ci mette un po' di tempo per fare sta cosa Millikan ci mette una ventina d'anni presto a poco e determina esattamente il valore di Q noto Q a quel punto può calcolare M Millikan anche questo è un esperimento molto semplice e realizzabile diciamo abbastanza facilmente Millikan fa questa cosa ha un contenitore nel quale c'è stata dell'aria e inserisce nel contenitore lui utilizza delle goccioline di olio ora la gocciolina d'olio entra nel contenitore che cosa fa? è una particella che ha una certa densità che entra all'interno di un fluido che è l'aria che sta là dentro quali forze percepisce e sente questa pallina? la forza peso che la tira verso il basso c'è una forza di frenamento perché stiamo parlando di una pallina che si muove all'interno di un fluido e poiché stiamo parlando di una pallina piccolina il fluido è importante l'effetto di frenamento è un fatto importante e poi poiché la pallina si muove all'interno di questo fluido c'è anche una spinta verso l'altra e la spinta di Archimede queste sono le forze che agiscono qua dentro ovviamente per le condizioni del problema poiché la densità dell'olio è diversa da quella dell'aria sensibilmente la spinta di Archimede può essere ritenuta trascurabile un effetto trascurabile quindi quelle sono scende senza problema qual è la cosa interessante e questo è noto dalla fisica elementare che se una pallina si muove in un fluido lanciate una pallina nel mare la lanciate la pallina prima destra una traiettoria un poco strana una cosa esponenziale poi in un certo momento va al regime e cade verticalmente cioè quello che accade al limite la velocità di regime è quella per la quale la forza peso bilancia questa forza di resistenza è il moto e il moto elettrino uniforme conclusione massa per G uguale K questa costante che non sappiamo per la velocità finale praticamente e la velocità all'interno del fluido perfetto questo in condizioni normali cambiamo l'esperimento introduciamo anche un campo elettrico che cosa fa il campo elettrico sulle goccioline il campo elettrico è una cosa sostanziale perché le goccioline vengono vaporizzate la vaporizzazione corrisponde a un elettrizzazione per strofinio tirate fuori delle cariche elettriche alla gocciolina di olio e quindi la gocciolina d'olio è carica allora entra ora una gocciolina d'olio in un campo elettrico che cosa cambia rispetto a prima c'è ancora Mg però ora c'è anche il contributo Q moltiplicato il campo elettrico la forza legata al fatto che il campo elettrico ce l'ho messo io là dentro la forza che la particella è carica però come vedete ora ho Mg più Qe ho una somma M sta da una parte e Q sta da un'altra non c'è più il rapporto come ce l'aveva Thompson faccio vedere le note allora questa è l'equazione in assenza di campo elettrico a regime regime significa che questo dovrebbe essere uguale ad Ma però a regime la velocità è costante quindi A non c'è quindi avete Mg uguale K moltiplicato V con F col campo elettrico si è la resistenza del mezzo il Cx cioè meno beta V la forza istoxi non so come la resistenza del mezzo è sempre la stessa invece la prima o la seconda dipende se il campo elettrico è da un lato o da un altro vi da Mg più e Q meno K V con C V con C è una velocità diversa in questo caso perché la velocità finale viene raggiunta in relazione al campo elettrico dipende dal campo elettrico anche in questo caso è la velocità di limite quindi è uguale a 0 la velocità al limite giusto tecnicamente in meno di un secondo la particella raggiungeva la velocità al limite quindi se voi prendevate un tubo o un contenito sufficientemente grande il sistema si muove in modo che è un uniforme cioè cade verticalmente fatto bene avete questa relazione quindi questa vi serve perché qua c'è la carica elettrica allora quali sono le incognite di questo problema e quali sono le incognite impegnative perché io non conosco la massa della gocciolina d'olio mica metterla a misura la gocciolina d'olio quindi sarebbe auspicabile non avere la gocciolina d'olio la massa della gocciolina d'olio delle espressioni perché come la faccio a misurare insomma immaginate la mettete là sopra non è una cosa ovvia allora che cosa fece Millica fece un discorso diverso la massa bene la massa la calcolano prodotto dalla densità per il volume densità dell'olio per il volume della gocciolina d'olio qual è il volume della gocciolina d'olio era ragionevole supporre e questo è supportato da successivi dati sperimentali che la gocciolina fosse sferica è una sfera il volume 4 terzi pi greco r al cubo quindi abbiamo cambiato il nome della nostra ignoranza non è più la massa ma il raggio della gocciolina d'olio quindi scrivo tutto in termini di r posso calcolarmi questo r? bene il calcolo è banale perché utilizzo questa equazione perché utilizzo questa? al posto di m ci metto rho dell'olio 4 terzi pi greco r al cubo l'accelazione g la conosco grazie a Dio k k è una costante che vale essenzialmente 6 pi greca r questo è noto chi si sta studiando un po' di resistenza del mezzo la legge di Stokes praticamente ma era già noto prima che lo facesse millica eventualmente qualche fattore correttivo dettagli ma comunque 6 pi greca r quali sono le incognite di questa equazione? è soltanto r perché la velocità v con f la conoscete è quella che misurate sperimentalmente è la velocità che avete misurato spazio uguale interbio uguale la particella va di modo rettivo uniforme è una cosa accurata l'incognita r e vi calcolate r la dimensione della gocciolina bene se conoscete r sostituite qua dentro al posto di m ci mettete questa espressione m è scomparso vi è rimasto soltanto q e avete risolto il vostro problema calcolate q in relazione al campo elettrico calcolate diverse goccioline e vi accorgete lui si accorge che tutte le goccioline hanno una carica che è multipla di una carica minima la carica minima è la carica della particella l'unità di carica elettrica negativa e il numero che lui trova è il famoso 1.6 per 10 almeno 19 coulomb che è la carica elettrica dell'elettrone noto questo si calcola la massa quindi con questo esperimento è tutto noto dell'elettrone conosco tutti gli attributi bene questa cosa che ha fatto Thomson a questo punto abbiamo il nostro atomo problema successivo come è fatto l'atomo come è fatto l'atomo certamente a particelle negative l'abbiamo visto e però l'atomo è neutro perché siamo tutti quanti neutri cioè tutto dovrebbe essere elettricamente carico e non è vero quindi siamo neutri e quindi si dice anche una carica positiva bene a questo punto la gente si sbizzarresce si inventa le cose più bizzarre per mettere su un sistema elettricamente neutro e il primo modello è quello di Thomson lo sapete bene il famoso modello a panettone cariche elettriche e l'uva passa tutta la pasta e la carica positiva non sapeva che fare perché lui diceva se escono fuori le particelle negative significa che queste sono puntiformi la carica positiva non esce quindi sta là completamente diffusa benissimo è un primo modello è un primo tentativo però per esempio un modello del genere è altamente instabile non può essere una carica positiva diffusa una carica negativa che sta là a livello colombiano la forza va come uno su R quadro immaginate una carica puntiforme uno su R quadro che sta azzeccata una carica positiva una negativa una positiva che viene fuori questa forza qualcosa di ingestibile non è coerente con la legge di Colom che funziona tra l'altro è stato sperimentato prima che lo facesse Thomson e tutto funzionava quindi è un modello altamente insoddisfatto però uno può provare a fare un discorso diverso e quello del discorso che fa Rutherford Rutherford dice vabbè c'è una carica positiva una carica negativa ci sarà una carica positiva io faccio un sondaggio cerco di capire come è fatto l'atomo e faccio un'altra cattiveria all'atomo lo bombardo cioè lancio delle palline sono dei test è come quando uno usa un ecoscandaglio mando un segnale vediamo che cosa accade lancio delle palline per avere una risposta dal sistema bene si accorge che nella stragrande maggioranza dei casi le palline che lancia lui lancia particelle alfa nuclei di atomo di elio si attraversano si muovono tranquilli vanno dritto per dritto questo significa che questo atomo a panettone non può funzionare perché se queste vanno dritto per dritto significa non incontrano nel loro percorso niente per rimbalzare ma nemmeno una presenza di una carica elettrica che possa deflettere e quindi significa che queste palline attraverso regioni ampiamente vuote però qualche volta c'è un rinculo cioè qualche volta qualche pallina torna indietro allora significa che questa particella alfa sfortunata sfigata fortunata punti di vista va a chiappare qualche cosa di puntuale perché è solo là che la chiappa perché prima non l'ha mai acchiappata e quindi il modello che viene fuori che lui formula è un modello planetario chepleriano modello tipo sole terra esattamente dello stesso tipo e questo è il modello che mette su è il modello che mette su Rutherford anche qua c'è una patologia la patologia qual è? la patologia è che se voi avete un modello planetario cioè una particella carica negativamente che ruota intorno una particella carica positivamente la particella negativa è una carica che gira e quindi è accelerata ma se è accelerata deve perdere energia l'elettromagnetismo dice che nel tempo la sua energia varia come il quadrato dell'accelerazione in valore assoluto senza segno quindi con un segno meno quindi perde energia quindi la particella da qualche parte ho fatto il disegno dovrebbe fare una cosa di questo tipo dovrebbe fare un moto spiraleggiante per finire sul sul nucleo e quindi anche questo modello non è stabile noi siamo stabili noi esistiamo per un tempo limitato però esistiamo e quindi significa certamente il modello planetario non va bene quindi ci troviamo di fronte all'utilizzo F uguale MA equazione dell'elettromagnetismo non riescono a spiegare la stabilità della materia che è un problema fondamentale come si risolve questo problema? beh il modo per risolvere questo problema è un modo stiamo parlando di introduzione della meccanica quantistica di tipo fenomenologico Bohr introduce una serie di assunzioni ad hoc per spiegare il modello planetario e soprattutto la stabilità è un modello particolare che come dire può essere dipendendo dai punti di vista come vedete questo modello se è positivo e negativo uno può avercela a morte con Bohr perché è un modello povero oppure il contrario perché sono elementi di intuizione profondi Bohr che cosa fa? fa un discorso molto semplice dice io conosco l'f uguale ma quindi applico l'f uguale ma prima cosa quindi applica la fisica classica seconda cosa non applica la relatività ristretta stiamo parlando 1913 14 15 intorno a quegli anni la relatività ristretta era stata già formulata lui decide di non applicare l'equazione della relatività ristretta è una scelta che fa che ovviamente va testata a posteriori aveva ragione comunque ad applicarlo questo non è necessario applicare in questa approssimazione la relatività ristretta va bene la fisica classica diciamo l'f uguale ma diciamo l'f uguale ma perché quella aveva soltanto e lui fa queste assunzioni l'f uguale ma funziona c'è un principio di conservazione di energia e perché il moto è centrale si conserva il momento angolare non è un'assunzione questa è la verità perché se la forza è centrale il momento angolare si conserva si conserva significa che il vettore momento angolare deve essere sempre perpendicolare al piano individuato dal vettore posizione al vettore velocità ortogonale sempre sempre significa non cambia la lunghezza quindi il modulo non cambia non cambia la direzione non va su e giù e quindi questo vi dà il moto piano poiché L non può cambiare deve essere sempre perpendicolare il moto è piano questo serve poi a dire che le orbite sono ellittiche e là ci vuole qualche piccolo sforzo in più quindi le orbite che vengono fuori sono orbite sicuramente chiuse dovrebbero essere ellittiche ma lui fa l'ipotesi che siano circolari le prime ipotesi che fa Bohr quindi sono tutti questi oggetti queste cose classiche bene se uno applicasse questo tutta questa struttura non otterrebbe i risultati che si avevano a disposizione deve modificare leggermente le ipotesi perché devo modificare leggermente le ipotesi dunque deve modificare leggermente l'ipotesi perché non ci sta qua sopra vabbè sta dall'altra parte c'è la parte di spettroscopia non è trasferita perché perché i dati di spettroscopia l'ho accettato un attimo fa segnalano un fatto importante quel fatto diceva l'atomo è schizzinoso cioè significa che solo certe energie sono consentite cioè l'atomo assorbe certe certa radiazione elettromagnetica non tutte e quindi si devono contare uno due tre così via e questo fatto tenete presente che nel conteggio erano bravissimi le formule per le righe spettrali erano nota già nella seconda metà dell'ottocento ma con un rigore impressionante le formule per le righe spettrali avevano il nome di serie di Balmer Liman dipende da che tipo di radiazione andavate a vedere nel visibile l'atomo di idrogeno emette radiazione riconducibile alla serie di Balmer sono cinque le serie dell'atomo di idrogeno nell'ultravioletto e nell'infrarossa serie di Balmer com'è fatta questa serie? la frequenza alla quale viene assorbito ceduta la radiazione è uguale una costante per 1 fratto 4 meno 1 fratto n quadro con n maggiore uguale di 2 con n maggiore di 2 cioè tutte le righe sono riconducibili a questa semplice formula che è impressionante uno riesce a ottenere ma queste cose tipo settimanale enigmistica ti do queste cose trova la regola e loro trovarono queste regole con grande accuratezza e allora il modello di Bohr deve prevedere una discretizzazione ma così come è formulato ve lo scordate non ci stanno opportunità di discretizzare non riuscite a farlo perché state applicando le leggi della fisica classica la velocità varia con continuità la posizione varia con continuità perché l'energia varia con continuità e perché il momento angolare varia con continuità e qua interviene l'intuizione di Bohr Bohr dice devo contare qualcosa l'energia e allora che cosa faccio? faccio l'ipotesi che l'elettrone sta solo su certe orbite e conto le orbite come le faccio a contare? l'abbiamo detto prima è il momento angolare la grandezza fisica che controlla questo motopiano e quindi quantizzo il momento angolare cioè dico che il momento angolare è un multiplo intero di un'unità di momento angolare di qualche tipo la costante che usa lui è la costante di Planck può essere pure immaginate che uno l'ha fatto al contrario al ritroso però diciamo la costante di Planck è una grandezza fisica alle dimensioni di un'azione un'energia per un tempo e questa energia per un tempo è omogenea al momento angolare dal punto di vista grandezza fisica quindi fa questa ipotesi quindi dice io conto L se conto L ovviamente conterò R il raggio conterò la velocità e quindi l'energia perché l'energia è energia cinetica più energia potenziale e quindi posso contare l'energia che è qualcosa di sorprendente però c'è un altro particolare per quale motivo questo atomo è diverso da quello di Rutherford non c'è ragione perché sia diverso da quello di Rutherford ai fini della stabilità perché il fatto che io conti le orbite non significa nulla sulla stabilità l'orbita rimane chiusa e se non era stabile il modello di Rutherford non è stabile nemmeno il modello di Bohr e qua Bohr ha l'intuizione di autorità che poi non è intuizione perché è una cosa che dice lui lui dice le orbite sono stabili perché lo dico io quindi se l'elettrone sta su questa orbita sta un'orbita che chiama lui stazionaria cioè lui non perde energia su queste orbite non poteva fare diversamente e quindi poiché lui era Bohr aveva autorità era anche autorevole la conclusione del modello di Bohr funzionava cioè nel senso la gente l'ha preso per buono la bontà del modello è legata al fatto vi faccio vedere il risultato finale ecco qua il risultato finale è che lui ottiene l'energia delle varie orbite con un indice n sono quantizzate è un esercizio banale sulle note trovate tutto appunto abbiamo deciso di fare piuttosto la chiacchierata piuttosto i dettagli tecnici ma trovate tutto sulle note la cosa importante è che vedete in questa forma sono tutte costanti 2 pi greca la massa dell'elettrone la carica dell'elettrone z vabbè è un modello eventualmente tipo idrogenoide se è atomo di idrogeno z fa praticamente 1 1 su 4 pi greca sono con 0 qui non ci sta niente cosa cruciale compare un n là sotto n quadro dove n comincia il dominio di l n è da 1 ad andare in avanti e poi c'è la costante di Planck questa formula è spettacolare spettacolare perché fa due cose questo k è il vettore d'onda che è legato alla frequenza in qualche modo la formula di sotto è la serie di Balmer lui ottiene con un'accuratezza spinta spintissima la formula di Balmer introdotta in maniera fenomenologica per spiegarle che spettacolare tipo 30 anni prima lui la ottiene esattamente che è qualcosa di impressionante ma fa anche un'altra cosa quando prendo l'energia più bassa cioè nella formula precedente inserisco 1 al posto di n otterrò un'energia l'energia è con un'energia si dice di stato fondamentale quella più bassa possibile c'è un segno meno quindi quella è la più bassa poi le altre energie diventano via via più grande più grande rispetto all'energia precedente quindi quella più bassa chiama stato fondamentale bene l'energia più bassa viene questo numero 13.6 elettrovolt che è esattamente l'energia di ionizzazione dell'atomo di idrogeno cioè se io volessi tirar fuori un elettrone dall'atomo di idrogeno nello stato fondamentale mi serve questa energia nota sperimentalmente successo notevolissimo quindi Bohr attraverso questo modello riesce a spiegare questo tipo sia le righe spettrali e quant'altro ci sono delle patologie al modello perché l'orbito non è circolare che cosa accade in cambi elettrici in cambi magneti non è in grado di spiegare molte cose però tutto quello che sta qua è fondamentale qual è la lezione che viene fuori dal modello di Bohr viene fuori una lezione estremamente importante e cioè la fisica nuova la fisica di quello che io non vedo con gli occhi deve essere assolutamente indagata introducendo oggetti che dal punto di vista dinamico possano variare in maniera discreta l'insieme di variabilità alle grandezze fisiche diventa discreto questa è la novità sostanziale che avviene rispetto al caso classico voglio sgombrare in campo anche per chi non è molto familiare con la meccanica quantistica la meccanica quantistica non è soltanto discretizzazione in alcuni casi i risultati sono di tipo discreto in altri casi i risultati variano con continuità per esempio se io prendo l'atomo di idrogeno l'energia varia in maniera discreta cioè l'elettrone che sta nell'atomo di idrogeno assume energia e con uno e con due e così via ma se io stacco l'elettrone lo tiro fuori e volessi descrivere questo elettrone l'energia di questo elettrone varia con continuità perché l'elettrone non è libero di muoversi quindi è una specie di deduzione ma questo è un teorema per certi versi quindi si può dimostrare quando l'oggetto quantistico che voi descrivete occupa regioni di spazio finite l'oggetto quantistico assumerà valori dell'energia discreti cioè quando per esempio immaginate stare qua dentro e voi potete occupare le sedi come le state occupando se voi state qua dentro e non ci stanno sedie per tutto il mondo quindi solo in questa stanza le vostre possibilità sono legate alle sedie e le contate 1,2,3,4,5,6 se invece andate fuori non siete vincolate sedete dove pare che vi piace non ci stanno più sedie siete per terra dovunque potete sedere accade qualche cosa del genere per l'elettrone per l'atomo per quello che studiate se la particella il vostro sistema è confinato in regioni di spazio l'energia varia in maniera discreta la contate è discretizzata è quantizzata questi sono i cosiddetti stati legati altro esempio è stato legato quindi voi non sapete niente del problema oscillatore armonico quantista non l'avete mai trattato bene l'oscillatore armonico quantista occupa regioni di spazio generico no perché è una molla è vincolata e quindi occupa regioni di spazio finite e dunque l'energia dell'oscillatore armonico deve essere discreta ed è quello che si ottiene prendiamo una particella mettiamola in una scatola può occupare regioni di spazio qualsiasi no solo quelle nella scatola che fuori non ci può andare l'energia è discreta quindi ogni qual volta viene fuori questa condizione l'energia è discreta e quindi nel caso dell'atomo idrogeno l'energia è discreta perché l'elettro non può andare dove vuole perché è legato c'è la forza di richiamo colombiana quindi non può occupare regioni di spazio qualsiasi e questo fatto implica la discretizzazione ma questo è un fatto ex post uno lo vede quando mette sulla meccanica quantista quello è fatto a Bor quindi è fondamentale che lui ha ipotizzato per la prima volta una discretizzazione delle grandezze fisiche è qualcosa di estremamente importante e significativo bene detto questo prima di passare a che cosa fa ora la materia in interazione con la radiazione elettromagnetica volevo solo precisare un qualcosa che forse va detto anche Gattano Lambiase per solo l'ambiase la settimana scorsa se io volessi classificare questa meccanica rispetto alla meccanica classica come potrei distinguerla beh questa meccanica ho detto prima è una meccanica nella quale io ho applicato sin ad ora avete visto il modello di Bohr F uguale MA quindi ho applicato un discorso non relativistico quindi la meccanica quantistica così come ci apprestiamo a discutere la vedremo anche la prossima volta è una materia non relativistica cioè le particelle che descrivi la meccanica quantistica hanno velocità molto inferiore rispetto alla velocità della luce questa è la cosa importante che qual è il parametro che differenzia questa meccanica rispetto a quella relativistica o a quella classica l'avete vista nelle formule di prima l'energia tra una costante la costante di Planck lui l'ha introdotta ad hoc Bohr e questa costante di Planck è come dire un ritornello che ricomparirà sempre in tutto quello che discuteremo cioè quando entra in gioco la costante di Planck bene quello è l'ambito quantistico che cos'è la costante di Planck ho detto prima un momento angolare ma anche un'energia per un tempo allora se voi prendete un sistema fisico generico prendete le energie valutate per un certo tempo fate questo prodotto confrontatelo alla costante di Planck se questo prodotto è molto più grande della costante di Planck avete l'ambito classico l'F uguale MA se l'oggetto che studiate invece è confrontabile per quanto riguarda questa grandezza con la costante di Planck bene l'oggetto è quantistico e dovete per forza usare la meccanica quantistica questa distinzione può essere fatta anche a livello come dire di aggettivi qualitativo posso dire che la meccanica quantistica studia gli oggetti piccoli perché piccoli perché questa costante di Planck va a 6.6 in unità di Joule per tempo per 10 alla meno 34 numero che non è visibile con nessun tipo di occhiali quindi certamente è un numero piccolo allora quando gli oggetti che voi studiate hanno costanti di azione questa azione qua molto maggiore l'oggetto è assolutamente classico quindi in teoria e questo deve fare qualsiasi modello fisico io potrei essere voi tutti quanti possiamo essere discritti dall'equazione di Schroding la meccanica quantistica però qual è il punto che le nostre dimensioni sono molto maggiori la costante di Planck per cui possiamo dire che gli effetti quantistici sono completamente assenti quindi noi possiamo essere trattati però in questo limite possiamo usare F uguale MA questo è un fatto importante che differenzia le diverse meccaniche la meccanica quantistica è quella quando compare H se c'è H che è significativo è meccanica quantistica va bene allora fatto questo adesso volevo discutere che cosa accade quando la radiazione elettromagnetica incide con la materia qualche cosa abbiamo detto a livello di spettroscopia ma quello è stato per me funzionale all'atomo di idrogeno invece le cose che sono interessanti da analizzare ecco questo l'ho chiamato Rydberg questa è la spettroscopia eccolo qua questa è la spettroscopia per esempio queste sono righe spettrali dell'atomo di idrogeno se uno le va a vedere in realtà sono queste sono queste quelle che uno uno spettroscopista andrebbe a vedere sono queste linee qua queste sono viste sia in emissioni che in assorbimento cosa cambia tra emissioni in assorbimento dove c'è il nero mettete il colorato e viceversa uno assorbe certa radiazione e emette la stessa radiazione quindi dato che sta impressionando la lastra invece di essere diventa colorata tutto qua la cosa importante è che questo è pure un fatto significativo queste tabelle queste linee che vedete sono la carta di identità sono le impronte digitali degli atomi cioè ogni atomo ha delle righe spettrali ben definite e sono tutte diverse tra loro non potete trovare due righe spettrali uguali come non trovate due impronte digitali uguali perché dipende dalla natura dell'atomo ogni atomo è diversa dall'atomo ogni sostanza è diversa dall'atomo quindi avete diverse righe spettrali qua sono non si riesce a leggere idrogeno litio mercurio e sodio e poi c'è lo spettro del sole dove individuate certe righe caratteristiche va bene l'altro ambito estremamente interessante io queste cose le ho chiamate con nome queste 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 slide per ricordare chi è che ha svolto il ruolo fondamentale allora questo è Planck Planck entra in gioco nel corpo nero ora il corpo nero è un oggetto abbastanza oscuro pure ai fisici quindi adesso cerco di dire sommariamente che cos'è un corpo nero nel modo più semplice possibile il corpo nero è semplicemente una scatola con un buco è il corpo nero più facile ecco qua un corpo nero vabbè dove sta il corpo nero? la vedo? è scomparsi il corpo nero non ci sta il corpo nero vabbè è una scatola con un buco è talmente nero che è scomparsi il corpo quindi immaginate quindi immaginate di avere una scatola e di praticare un foro in questa scatola perché si classifica come nero? perché voi vedete attraverso il buco nero non vedete niente cioè significa che la radiazione va dentro ma rimane imprigionata e non furiesce il corpo nero poi in base al secondo principio la termodinamica questi in questo caso si amarebbe principi Kirchhoff che non c'entra la termodinamica all'ottica però è il secondo principio la termodinamica si assorbe questa radiazione deve emettere la stessa radiazione quindi si assorbe tutta la radiazione emette tutta la radiazione così come le righe spettrali di prima il negativo e il positivo il corpo nero quindi è in grado di assorbire tutta la radiazione e di emettere tutta la radiazione qual è il problema del corpo nero? il problema del corpo nero è quello di calcolare l'energia emessa da questo corpo nero o assorbita dal corpo nero quindi in via da radiazione vediamo questo che cosa fa allora le grandezze fisiche che uno introduce vabbè qua non ci stanno scritte sono densità di energia radiante la densità di energia radiante è l'energia per unità di volume che dipende dalla frequenza e dipende dalla temperatura faccio l'integrale su tutte le frequenze e la densità di energia prendo queste energie e la moltiplico per il volume e l'energia quindi se prendo la densità di energia radiante faccio l'integrale su tutte le frequenze e moltiplico per il volume è l'energia che ha questo corpo nero l'energia la posso misurare ora la cosa interessante del corpo nero che è un oggetto trasversale cioè entra l'ottica entra l'elettromagnetismo entra di tutto c'è stato di tutto allora lo studio completo è altamente sofisticato ma io lo semplifico estremamente come lo semplifico? immaginando che arrivi della radiazione nel corpo nero questa radiazione interagisce con le pareti di questo corpo e faccio un'ipotesi grossolana questi atomi che formano queste pareti immagino tipo delle molle ci arriva la radiazione e queste cominciano a oscillare e emettono la loro radiazione abbiamo detto prima c'è una frequenza tipica di oscillazione dell'oscillatore armonico emette questa questa radiazione quale radiazione? tutta quanta perché abbiamo stabilito prima che il corpo nero assorbe tutta la radiazione ed emette tutta la radiazione allora che cosa faccio? questa è un'idea notevole l'elettromagnetismo mi dice quant'è la pressione esercitata dalla radiazione sulla cavità viene dall'elettromagnetismo la pressione è un terzo dell'energia della densità di energia un terzo dell'energia per unità di volumi dalla pressione di radiazione è una cosa che si calcola dall'equazione di Maxwell poi se io considerassi questo è un calcolo proprio di un passaggio un principio di equipartizione dell'energia cioè dico quanti gradi di libertà ho a disposizione e associa ogni grado di libertà una temperatura un mezzo KBT il principio di equipartizione dell'energia calcola l'energia totale del sistema quanti gradi di libertà ho? oscillatori armonici ne ho N qua dentro però ogni oscillatore armonico ha tre gradi di libertà perché è spaziale grado di libertà significa quante coordinate mi serve individuare un punto ne servono tre ne ho N quindi sono tre N perfetto e questa emette radiazione radiazione ha due polarizzazioni diciamo oraria e antioraria quindi il totale sono sei gradi di libertà sei moltiplicato a N per un mezzo KBT fa tre N KBT bene se prendete questo oggetto U e lo sostituite nella densità di energia della formula precedente semmai ve lo scrivo un attimo qua sulla lavagna vi viene che questa radiazione segue la legge PV uguale a N KBT l'equazione di stato dei gas perfetti cioè io tratto la radiazione con un gas perfetto spettacolare perché applico la termodinamica questa cosa l'ha fatta Stefan Boltzmann e hanno ottenuto come varia l'energia per unità di volume in funzione della temperatura ottiene una forma che l'energia varia come T alla quarta l'energia emessa ad una data frequenza varia come T alla quarta Stefan Boltzmann termodinamica risultato esatto perché la termodinamica è esatta a questo punto il problema qual è? calcolare l'energia per frequenza fissata che io ho fatto un discorso globale ho fatto un discorso termodinamico d'accordo? è il discorso termodinamico è un discorso macroscopico non è microscopico tratta il volume totale il numero di particelle totale non la singola pallina che cosa bisogna fare ora per calcolarsi la densità di energia raggiante radiante calcolare l'energia associata a ognuno di questi oscillatori moltiplicare per n e fare tutto il calcolo e l'energia totale è la somma di tutte queste energie bene se fate questo usando la fisica classica ottenete che l'energia varia con la frequenza come la frequenza al quadrato vabbè ce ne facciamo una ragione ma se io considero che la frequenza è l'inverso della lunghezza d'onda l'energia varia come 1 sulla lunghezza d'onda al quadrato perfetto vado a piccole lunghezze d'onda quindi vado nell'ultravioletto e questo oggetto mi diverge cioè l'energia radiante diverge a frequenze molto elevate a frequenze molto basse inaccettabile perché le curve si chiudevano tutte quante non avevano questo andamento questa legge dell'area di jeans questo andamento divergente quindi dal punto di vista classico il corpo nero non sono in grado di spiegarlo le curve partivano da zero avevano un massimo quando si annullavano divergenze non sono presenti quindi il corpo nero non può essere assolutamente spiegato nell'ambito di questo approccio classico dove nasce il problema io ho fatto l'energia della singola particella e ho contato quanti oscillatori avevo il problema sta o nel conteggio o nell'energia ora il conteggio non è un conteggio classico quantissima di si conto 1, 2, 3, 4 sono numeri il conteggio non è un problema il problema sta quindi nel calcolo dell'energia media l'energia media non può essere calcolata come è stata calcolata perché l'energia media si calcola lo sapete la distribuzione di Maxwell e Boltzmann l'energia moltiplicata il fattore di Boltzmann elevato a meno beta beta 1 su KBT per l'energia integrato sull'energia e calcolato questo oggetto normalizzando e questo viene KBT principio di ripartizione dell'energia e se viene questo non avete speranza il vostro risultato è classicamente è fisicamente inaccettabile quanto riviene l'ipotesi di Planck questo è il calcolo che dicevo prima quella è la densità di energia radiante e il valore medio se voi fate il calcolo di questo oggetto che sta qua ecco qua di questo qua eccolo qua vi viene che il valore medio è uguale a 1 su beta beta e KBT questo è il calcolo che uno farebbe classicamente banalmente che non funziona Planck a questo punto introduce una cosa innovativa e dice gli scambi di energia tra la radiazione e la materia quindi la radiazione che arriva e la materia che sta là non avvengono in questo modo cioè non possono variare con continuità nell'energia continuità significa non ci posso fare l'integrale sopra perché questo integrale vedete l'integrale in d'epsilon e l'energia che varia tra 0 e infinite non funziona così perché state considerate tutte quante le energie lui dice no seleziona la natura alcune alcune energie e cioè detto diversamente dovete sostituire dall'integrale la sommatoria vedete c'è la sommatoria su quella quantità là bene se fate questo arrivate a questa formula che sta qua fuori per il valore medio dell'energia è un calcolo semplice si tratta di fare una serie geometrica se si fa agevolmente eccola qua questo è il valore medio dell'energia che non è quello di prima quello di prima era KBT è totalmente cambiato che avete questo fattore che sta qua sotto ultima cosa c'è un parametro 3 con 0 l'energia minima quanto va l'energia minima e qua l'agrici borro affatto il suo modello faccio la mia cosa entro con la mia costante di Planck questa è la seconda della H costante di Planck moltiplicata alla frequenza e il discorso è completo quindi con questa espressione introducendo questa espressione qua eccola qua quella in rosso è la corretta legge di distribuzione che Planck ottiene per il corpo nero quell'espressione che sta là dentro che non ha nessun tipo di patologia vedete là c'è una frequenza al cubo quindi va come uno sulla lunghezza d'onda al cubo piccola lunghezza d'onda questa diverge non è vero che adesso c'è l'esponenziale là vicino l'esponenziale tiene la frequenza la vedete H per quella frequenza ebbene mandate a zero la lunghezza d'onda oppure mandate la frequenza all'infinito c'è l'esponenziale là sotto l'esponenziale va rapidamente all'infinito o a zero più di qualsiasi potenza e quindi quell'oggetto non dà problema quindi se quella specie di V va all'infinito il numeratore vi diverge ma vi diverge anche il denominatore perché c'è elevato a questo ma il denominatore diverge più fortemente di quello e quindi questo è l'hôpital se volete e questo vi va a zero non c'è patologia e questa curva spiega perfettamente tutti i dati sperimentali sintesi io l'ho semplificato questa trattazione perché qua veramente la gente si complica a piacere la propria esistenza sul corpo nero introduce effetto doppio fa cose stranissime cose complicate ma la cosa essenziale del messaggio è che Planck introduce una discretizzazione negli scambi di energia tra radiazione e materia noi sapevamo dalla spettroscopia che l'atomo ha un comportamento discreto nelle dighe spettrali qua c'è qualcosa in più il qualcosa in più dice se io scambio energia con la materia lo scambio avviene in maniera discreta che è un fatto sostanziale e la cosa più importante è che alla radiazione associa un'energia la costante di Planck moltiplicata alla frequenza d'accordo? quindi questo è un fatto importante questo fatto che introduce Planck attraverso la sua costante tenete presente che la forbata di Planck è di calcolarsela alla costante cioè lui aveva i dati a disposizione dati sperimentali quindi lui fissa nell'espressione di prima non so in certo momento avete visto ecco ci sta questo Epson con 0 che sta qua lui fissa Epson con 0 in modo in realtà da riprodurre dati sperimentali lo pone proporzionato alla frequenza che se non lo pone proporzionato alla frequenza è fritto cioè quelle divergenze rimangono tale e quale e poi per una costante la frequenza è l'inverso di un tempo e quindi per avere le unità giuste la costante che deve moltiplicare la frequenza deve essere un'energia per un tempo energia per un tempo debellazione e quello che dicevamo prima entra in gioco la costante di Planck allora questo è il modello di Planck e l'ipotesi di Planck può essere utilizzata bene può essere utilizzata e viene utilizzata in maniera significativa da Einstein nell'effetto fotoelettrico l'effetto fotoelettrico è un caso nel quale implemento operativamente l'ipotesi di interazione tra radiazione e materia e in realtà l'effetto fotoelettrico dà luogo anche a sottoprodotti interessanti che discuteremo tra un attimo in che cosa consiste l'effetto fotoelettrico eccolo qua in maniera grossolana radiazione elettromagnetica arriva in cc è un catodo è un catodo opportuno a un certo momento arrivando a questa radiazione io mi accorgo ed era già noto prima che lo facesse di Einstein è un fatto sperimentato sperimentale sperimentato ben accertato se c'è una differenza di potenziale tra c e dà tra catodo e anodo io vedo attraverso questo galvanometro questo oggetto molto molto sensibile in corrente vedo un piccolo passaggio di corrente c'è un passaggio di corrente quindi segno evidente che la luce ha tirato fuori delle particelle c'erano delle spiegazioni di questo fatto dal punto di vista sperimentale alcune pure ragionevoli però c'erano un paio di cose che non erano molto chiare e cioè io mi aspetto che aumentando l'intensità della radiazione cioè più luce invio sopra più aumenta la corrente sì questo è vero ma non sempre cioè detto diversamente se la frequenza della radiazione non è opportuna voi non vedete niente potete aumentare a vostro piacimento la radiazione non passa corrente è una cosa dannatevi come volete aumenta un fascio gigantesco ci vuole la frequenza giusta a partire da una certa frequenza quindi esiste una soglia classicamente non esiste soglia questo per dire che una selezione accade rispetto alla fisica classica poi c'è un altro aspetto importante il fenomeno è istantaneo cioè nel dato sperimentale invia radiazione e subito esce fuori la corrente classicamente uno si aspetterebbe che invia radiazione quando la radiazione è opportuna cioè in una certa intensità se l'ha assorbito questo qualcosa una particella carica se la prende a quel punto parte però occorre un lasso di tempo un intervallino di tempo non è vero il fenomeno è assolutamente istantaneo queste cose classicamente non trovavano spiegazione le altre cose più o meno si capivano ma queste certamente non trovavano spiegazione come si può spiegare? impostando il tutto con F uguale a M A o meglio con la conservazione di energia classica e utilizzando l'ipotesi di Planck è un caso diciamo banale ecco qua questa formula allora arriva radiazione su questo catodo e dentro ci sta qualcosa sono particelle cariche che poi tiro fuori e quindi vediamo l'energia di questa particella carica allora io fornisco un'energia che è questo oggetto che sta qua questo che sta al rigo di sopra vabbè finti che ho fatto il rigo di sopra e questa è l'energia che arriva è quella che dice Planck questa energia è data l'assorbe l'elettrone è uguale la trasferisce l'elettrone parte sull'energia cinetica e parte in questo potenziale W0 che cos'è W0? è il potenziale che mantiene l'elettrone attaccato al suo atomo al suo nucleo è il potenziale di estrazione per cui porto tutto a secondo membro e quindi l'energia cinetica è uguale è la stessa cosa di prima ho portato a secondo membro questa quantità ora l'energia cinetica è ben noto che è un mezzo mv quadro allora se è un mezzo mv quadro vi accorgete che il secondo membro se non è opportuno dà luogo a velocità immaginaria e tutti possiamo aspettarci tranne velocità immaginaria quindi significa che il secondo membro ha senso solo quando la frequenza che sta là moltiplicato per h è maggiore o uguale di W0 se non accade questo non avete energia cinetica che è poi l'energia che ha l'elettrone e allora l'elettrone quando esce fuori? esce fuori quando h per la frequenza uguaglia questo potenziale di estrazione uscirebbe a velocità nulla in questo caso per ogni valore più grande fuoriesce e quindi avete individuato la soglia questo è un fatto come dire elementare ma nel momento in cui scriviamo che l'energia della radiazione che arriva e che viene trasferita al vostro elettrone è questa vi serviva l'ipotesi di Planck senza l'ipotesi di Planck non avreste potuto assolutamente scrivere questa relazione quindi è importante questo fatto stiamo parlando 1905 Planck è 1900 quindi aveva a disposizione Einstein queste cose quindi le ha implementate e forse qui c'è qualcosa di più perché Planck dice che è quantizzata l'interazione qui si quantizza proprio la l'onore questa ci torniamo perché infatti ho detto un attimo c'è un sottoprodotto significativo assolutamente importante questa osservazione che diciamo è la parte più delicata che ho detto nella trattazione il vostro collega sta dicendo che questo è un fatto tutto sommato è un'implementazione banale ma c'è qualcosa di più profondo che sta qua dentro il qualcosa di più profondo non so se ci stanno i disegni faccio vedere il disegno ecco il disegno che sto immaginando ora è che avete il vostro metallo l'elettrone esce fuori e è arrivato sopra un'altra pallina cioè in qualche modo alla radiazione ho attribuito una caratteristica un'energia ho attribuito anche una quantità di moto cioè la vostra pallina è attribuita delle caratteristiche dinamite caratteristiche dicono che è una pallina è un corpuscolo e quindi la cosa profonda che si una dualità vabbè l'abbiamo preannunciato questa cosa lo riprenderemo più avanti questo aspetto qua ma quello che mi premeva raccontarvi in questo caso essenzialmente vabbè che l'effetto che stavo dicendo viene spiegato perfettamente si fa un trucco interessante cioè si fa in modo di invertire la polarità cioè il catodo da meno diventa più e quindi esce l'elettrone e l'elettrone trova un potenziale negativo quindi non tenderebbe a tornare indietro però potrebbe avere una sufficiente regia cinetica da muovere io faccio in modo da prima differenza di potenziale da non avere corrente e individuo il potenziale minimo poi vario questo oggetto lo faccio vario e ottengo diversi valori diverse frequenze quindi mi faccio una bella curva e questo esperimento l'ha fatto eccolo qua l'ha fatto Millikan ottiene questa curva dalla quale ricava il valore che sta qua sotto è il potenziale di estrazione vi ricordate l'espressione l'energia cinetica è uguale alla frequenza meno potenziale di estrazione l'energia cinetica è uguale all'energia potenziale al potenziale applicato quindi avete il potenziale in funzione della frequenza è una retta una retta che non intercetta con W con 0 e la pendenza della retta che cos'è? diviso la carica elettrica in questo modo tirate fuori un'altra grandezza fondamentale che è lo stato di Planck la misurate perché è Millikan che fa l'esperimento questi dati sono quelli di Millikan e quindi la carica elettrica l'ho fatta io prima Millikan la costante di Planck compare nel coefficiente angolare della retta lm della retta mi calcolo anche la costante di Planck e trovo il numero giusto che aveva trovato Planck che ad hoc aveva introdotto nella sua teoria bene questo è l'effetto fotoelettrico bene a questo punto veniamo all'aspetto più delicato di questa faccenda di che cosa emerge da questo discorso come potrei interpretare questo esempio l'abbiamo già parlato un attimo fa bene potrei immaginare in maniera grossolana però funziona che la luce è fatta da palline e quindi quello che accade ho una pallina che ha una sua energia urta un'altra pallina c'è uno scambio di energia uno scambio di quantità di moto e avviene qualche cosa quindi immagino che il tutto sia riconducibile un fenomeno puramente corpuscolare questo discorso che è il sottoprodotto dell'effetto fotoelettrico in realtà Einstein non l'aveva colto completamente però c'è un altro esperimento estremamente importante che è successivo a questo che è l'esperimento di Compton l'esperimento di Compton non c'è il disegno dunque l'esperimento di Compton consiste in questo avete ora radiazione elettromagnetica la fate incidere su elettroni è complicato farla incidere su elettroni io vi parlo da teorico io sono un teorico dal punto di vista sperimentale è molto molto più complicata si usava della paraffina in modo che gli elettroni non fossero fortemente legati immaginando tutto sommato abbastanza libero allora avete l'elettrone arriva la radiazione e avete un urto dato sperimentale anche in questo caso la lunghezza d'onda della radiazione emessa era più grande di quella incidente e dipendeva dall'angolo attraverso una formula la differenza di lunghezza d'onda tra la radiazione incidente e quella emessa era proporzionale a uno meno il coseno dell'angolo di emissione con una costante che aveva le dimensioni di una lunghezza d'onda dei raggi X i raggi X anche questi erano noti come spiego questo fatto? la spiegazione del fatto è banale attribuisco alla luce una energia e una quantità di moto e quindi studio un problema di urto attraverso quest'urto mi studio perché la luce ha energia H moltiplicata dalla frequenza mi calcolo la frequenza della radiazione emessa che è collegata alla lunghezza d'onda perché è l'inversa a parte la velocità della luce e quindi mi calcolo tutto l'ho semplificato in realtà il discorso è relativistico perché? perché la luce e se ho palline l'ho trasformata in palline che viaggia la velocità della luce quindi non posso usare le espressioni classiche quindi devo usare la meccanica relativistica quindi devo fare un urto relativistico se faccio questo urto relativistico e l'energia sappiamo quanto è l'energia relativistica mc al quadrato quella a riposo oppure mc al quadrato diviso radice di 1 meno v quadro su c quadro oppure nel caso della luce h moltiplicata alla frequenza quindi se conosco tutti questi dati studio l'urto banalmente faccio la luce arriva viene messa la luce in un altro angolo l'elettrone in un'altra direzione individuo gli angoli studio questo problema di urto banalmente lo risolve alla fine arriva al calcolo della lunghezza della radiazione emessa dopo l'urto bene il risultato che uno ottiene ecco c'è il disegno questo arriva qua il fotone se ne va da sopra si chiamano fotoni questi oggetti li abbiamo persone non è più radiazione elettorale sono palline che chiamiamo fotoni bene se fate tutti i conti ottenete il risultato finale la differenza tra lunghezza d'onda è uguale all'oggetto che sta a secondo membro badate che a secondo membro avete h costante di Planck m massa dell'elettrone c velocità della radiazione tutto oggetti costanti poi è uno meno coseno di fi quindi quell'oggetto è sempre maggiore di zero quindi significa che lambda prima è sempre più grande di lambda e infatti si osservava un aumento della lunghezza d'onda questo fatto ovviamente h su mc allora uno è una adimensionale coseno di fi adimensionale quindi h su mc è una lunghezza d'onda lunghezza d'onda di Compton ovviamente ognuno si pigliava il suo nome giustamente per l'esperimento che faceva risultati accuratissimi quindi significa che in qualche modo io posso immaginare che la luce è fatta da palline quindi la luce evidenzia proprietà corpuscolare questo non è una grande novità perché Newton aveva fatto un'ipotesi di palline che formano la luce Newton aveva sempre parlato di un'ipotesi corpuscolare della radiazione non funzionava tutto cioè la rifrazione non l'otteneva vabbè c'era qualche l'angolo otteneva al contrario vabbè va bene uguale perché la riflessione è praticamente la conservazione della quantità di moto e quindi se voi applicate la conservazione della quantità di moto una pallina che usano un biliardo fa la legge l'angolo incidenza uguale all'angolo riflessione non è una cosa profondissima però c'era anche questa possibilità e però qua emerge in maniera più profonda emerge dall'effetto fotoelettrico emerge dall'effetto Compton che è un fatto assolutamente nuovo però la cosa ancora più sconvolgente è quello che capita quello che capita se inviate degli elettroni su un cristallo allora se voi inviate radiazione elettromagnetica su un cristallo delle onde il cristallo è caratterizzato da distanze piccole quando la radiazione incontra distanze piccole cioè distanze confrontabili alla lunghezza d'onda di radiazione si è un fenomeno si è una diffrazione studiata tutto noto quindi la diffrazione a radiazione elettromagnetica nota però se invia elettroni che cosa accade? bene se invia l'esperimento si chiama Davison e Germer e però stranamente lo dicevamo pure a lezione l'altra volta Germer non ha avuto niente nessun tipo di riconoscimento Davison sì insieme al figlio di Thompson Thompson infatti Thompson e come si chiama Davison Germer purtroppo l'esperimento l'hanno fatto loro allora fanno l'esperimento e vanno a calcolare che cosa accade se questi oggetti che cadono sono elettroni e va a calcolare che cosa accade all'elettrone supponendo di dotare gli elettroni di una lunghezza d'onda cioè se io studio il meccanismo di Urt in questo caso vedendo l'angolo qua la legge di Bragg della diffrazione ottengo che tutto funziona se all'elettrone attribuisco una lunghezza d'onda lambda come l'attribuisco? eccola qua attribuisco una lunghezza d'onda con la quantità di moto più uguale a h fratto alla lunghezza d'onda se faccio questa assunzione cioè la quantità m per v uguale a h diviso lambda se faccio questa assunzione che cosa ottengo? ottengo la lunghezza d'onda degli elettroni ce lo metto là dentro e vedete che tutto funziona perfettamente e il parametro incognito che vedete 1,67 era la separazione tra gli atomi del loro sapore in nickel quindi torna perfettamente cioè l'elettrone manifesta proprietà ondulatoria allora questa è la sintesi di questa parte introduttiva sulla meccanica quantistica cioè che viene fuori come sottoprodotto di tutto che abbiamo detto prima discretizzazione di grandezze cinematiche dinamiche il raggio la velocità l'energia il momento angolare tutti oggetti che vengono è una novità la radiazione interagisce con la materia in maniera schizzinosa solo certa radiazione assorbita solo certa emessa e la radiazione alla radiazione attribuisce un'energia che è data da H costante di Planck moltiplicato alla frequenza questa attribuzione naturalmente ha come sottoprodotto di attribuire alla radiazione proprietà corpuscolare questa proprietà mi spiega perfettamente l'effetto fotoelettrico ma anche l'effetto Compton tutto perfetto qual è diciamo il contraltare? beh quello che viene fuori è che dalle esperienze di Davidson e Germer è che anche la materia può evidenziare proprietà ondulatoria questo è un fatto innovativo allora proviamo a fare un discorso al contrario io noi una persona normale può evidenziare proprietà ondulatorie andiamoci a calcolare andiamoci a calcolare la nostra massa cioè la massa ce la mettiamo là dentro andiamo a calcolare questa e ci viene una schifezza di lunghezza d'onda schifezza di 10 alla meno 30 32 a seconda della nostra massa quello è l'ordine di grandezza lunghezza d'onda cioè come dire noi siamo abbiamo questa questa tendenza ad essere ondivachi ma è talmente piccolo che insomma è invisibile praticamente però qua si pone un altro problema concettuale importante che è come dire l'idea fondamentale il fil rouge della meccanica quantistica domanda che cos'è la materia oppure che cos'è la radiazione è un'onda un corpuscolo allora quello che fa De Broglie quello che io ho scritto qua in maniera senza attribuire la paternità a De Broglie è di attribuire a tutto quello che incontriamo una lunghezza d'onda in base a quella forma che ho detto prima cioè la quantità di moto è legata alla lunghezza d'onda per la costante di Planck allora che cosa? allora la quantità di moto è data alla costante di Planck divisa la lunghezza d'onda eccola qua da dove è uscita allora per quanto riguarda allora adesso vediamo da dove è uscita muoviamoci verso sinistra verso sinistra H per N diviso C uguale P e questa è quella della radiazione elettromagnetica allora alla luce ho dato un'energia per N se prendo un'energia e divido per la velocità ottengo una quantità di moto quindi la quantità di moto della radiazione elettromagnetica costante di Planck per frequenza diviso velocità della luce e questa l'aveva già fatto Compton e gli funzionava tutto d'accordo? a questo punto dato che H per la frequenza diviso C è la mia quantità di moto vedete nella formula la frequenza diviso C la frequenza diviso C è 1 sulla lunghezza d'onda allora leggiamola al secondo membro quantità di moto uguale a costante di Planck diviso la lunghezza d'onda ed è questa la formula di De Broglie quindi la lunghezza d'onda uguale a H fratto P quindi da H fratto Mv ora io non dico chi è P perché se P si riferisce a radiazione elettromagnetica è quello se invece siamo noi M è moltiplicato a V Mv senza quadrato M per V e quindi così uno va a calcolare questo oggetto e il calcolo che qua è stato fatto se uno vede l'energia uguale a P quadro su 2m che è un mezzo Mv quadro nella radice qua è scritto 2m per E per la costante è uscito fuori perché ho scritto P quadro uguale l'energia per 2m ce l'ho messo dentro e questa 2m è proprio la quantità di moto della pallina del nostro elettrone se uno ci mette tutti i numeri che stanno qua dentro ottiene il risultato che è 1.66 Enkstrom che è la separazione tra questi atomi di nickel attraverso la formula di Bragglie quindi è un discorso fatto al contrario il numero che ottiene è esattamente la separazione tra gli atomi di nickel che lui già conosceva cioè l'oro già conosceva quindi è tutto coerente da dove nasce la coerenza da aver attribuito quell'energia 54 elettronvolt agli elettroni che avete tirato fuori e soprattutto quella quantità di moto agli elettroni ancora una volta vedete l'energia qua non è relativistica per gli elettroni cioè P quadro su 2m che è coerente anche con la meccanica quantistica la meccanica quantistica non è una teoria relativistica questo quindi è la sintesi di questo discorso quindi il dubbio che rimane a questo punto che cos'è la radiazione che cos'è la la materia bene questa domanda assolutamente malposta è talmente malposta che non do manco questo per malosso non vi do risposta cioè nel senso che la materia decide di fare lei come comportarsi così come la radiazione è il comportamento di un tipo o rispetto ad un altro a seconda di quello che state indagando di quello che state studiando e quindi può venire fuori un comportamento piuttosto che un altro ben inteso i due comportamenti sono duali cioè se la radiazione si comporta da onda non può comportarsi da corpuscolo e viceversa detto diversamente io faccio l'interferenza immaginando di aver fatto tutto con le onde funziona perfettamente perché quello è un comportamento tipicamente ondulatorio laddove viene fuori un altro tipo di comportamento va bene lo devo tenere presente devo considerarlo però la cosa che è un altro sottoprodotto che su questo diciamo non si dà molta enfasi però la cosa importante viene fuori da questo sottoprodotto di lunghezza d'onda per l'elettrone che intrinsecamente state introducendo una incertezza su dove sta l'elettrone perché nel momento in cui attribuito una lunghezza d'onda immaginate che sia un'onda e dove sta l'elettrone se questa è un'onda? quindi l'introduzione del linguaggio ondulatorio rende più vaga l'individuazione della collocazione puntuale di dove sta l'elettrone però non dimenticatevi che l'elettrone io lo posso sempre acchiappare metto un contatore Geiger mi passa l'effetto Thomson mi fa una macchia quindi è un corpuscolo però possono rir fuori proprietà di tipo ondulatorio e questa dualità è cruciale dicevo prima sono dualità intrinseche nella natura e porsi questo problema è un falso problema io penso aver finito però vi lascio con un dubbio fondamentale per la lezione successiva perché a questo punto lo deve sostanziare queste affermazioni e per sostanziarle occorre fare una riflessione più profonda su che cosa significa ambito quantista io ho detto prima sono oggetti legati alla costante di Planck e quant'altro e adesso cambio il modo di vedere cambio la domanda invertendolo in questo modo allora supponiamo di prendere questo oggetto lo colloco qua sopra domanda dove stava l'oggetto prima che io lo collocassi qua stiamo pensando a questo oggetto immaginate un elettrone immaginate una pallina che domanda posso dare che risposta posso dare a questa domanda prima che lo mettersi qua dove stava allora a questa domanda la risposta può essere triplice avete tre alternative alla risposta prima risposta beh se stava qua questa inquieta stava esattamente qua cioè significa io sapevo dove stava dalla conoscenza so anche dove starà successivamente cioè sono in grado di seguire l'evoluzione di questo oggetto prima risposta seconda risposta non mi interessa dove stava quello che conta è che ora sta qua quindi quello che accadeva prima è un fatto irrilevante non mi interessa assolutamente conta la presenza attuale e da questo in poi posso dire qualche cosa seconda risposta terza risposta ma non mi scocciate con queste domande imbarazzanti dove stava dove non stava stava da qualche parte che non mi riguarda ora sta qua prendo atto che sta qua non mi interessa è una domanda ma al posto ora queste tre risposte hanno tutte e tre dignità hanno talmente dignità che sono tre approcci diversi alla fisica quantistica il primo approccio l'oggetto sta qua ma prima stava pure qua è la risposta che avrebbe dato Einstein a questa domanda sbagliata Einstein ha sbagliato perché la quantità ha sbagliato lui credeva certe cose non funzionano e questo ne parleremo la prossima volta e questa è la risposta della Einstein seconda risposta dove stava prima non mi riguarda quello che conta è che ora sta qua e vediamo cosa accade e la risposta mi dice ortodossa è quella della meccanica quantistica cioè la meccanica quantistica si pone un problema ora quello che accadeva prima è privo di significato che cosa cambia tra l'ora e il prima una cosa sostanziale ora io lo vedo cioè in questo istante io faccio la misura cioè la meccanica quantistica attribuisce un ruolo fondamentale all'operazione di misura che è un fatto irrilevante in fisica classica voi quando spiegate ai vostri allievi qualsiasi cosa a cominciare dal moto del proiettile a PV uguale NRT all'elettromagnetismo utilizzate degli strumenti le vostre leggi fisiche che contengono grandezze fisiche tutte quante misurabili essendo misurabili non vi ponete il problema che vanno misurate perché sono misurabili quindi quando voi mi scrivete F uguale MA date per scontato che F la potete misurare M l'avete pesato A è l'accelerazione pesarlo meno un dettaglio chiedete al collega sperimentale di fare la misura però sono dati sono leggi fisiche sono grandezze fisiche accessibili sperimentalmente e quindi la misura non la fate perché? perché potreste farla avete tutto a disposizione da punto di vista quantistico cambia totalmente il discorso io ho banalizzato dicendo vedete questo oggetto ma adesso dovete immaginare un oggetto le cui dimensioni sono la costante di Planck e quindi immaginate che là ci sta un elettrone che non vedete allora dove sta l'elettrone prima che io faccia la misura? domanda malposta cambio la domanda così giusto per capirci supponiamo che ci sia una sola persona qua dentro una di voi uno tutti gli altri stanno fuori e questa persona viene qua dentro e si deve sedere dove si siede? ha senso questa domanda? non ha senso perché lui si può sedere dove gli pare e gli piace perché ha a disposizione 50 sedie e decide una tra queste 50 che la sua sedia si fa sedere perché gli piace che non gli piace ma in principio potrebbe sedersi su tutte quante allora ha senso porsi questa domanda? ha senso se io faccio il matematico? perché voglio avere la sensazione dove sta? o anche se faccio il fisico teorico presuntuoso per dire devo assolutamente sapere dove si fa collocare la presunzione di sapere dove sta e quindi mi pongo il problema di fare una cosa a priori questo è un positivismo e questo è Einstein quello che posso dire è che posso dire che lui sta seduto su questo posto con una proprietà un cinquantesimo perché tutti i posti sono uguali ma quando è che so che lui sta là e quindi come ho detto prima dove stava l'oggetto prima? se io apro la porta e vedo che sta là lui sta là e d'ora in poi ha senso quello che sto facendo prima non aveva senso allora quello che accade in meccanico quantistico e questo è il vulnus del discorso di Einstein che è la distinzione la non distinzione tra il discorso pre e il discorso posto il discorso pre è un discorso puramente teorico è talmente teorico che non posso che assegnare probabilità perché mi garantisco io sono ignorante non so dove sta da qualche parte starai e dico che sta in ogni posto probabilità un cinquantesimo questo è l'unico modo per garantirmi ma la cosa fondamentale in meccanico quantistico è l'apertura della porta l'apertura della porta colloca il vostro collega in quella posizione e lui sta là questo fatto significa anche che la descrizione quantista è a priori probabilistica ma a posteriori deterministica cioè nel senso lui sta seduto là e poi farà quello che farà in un'evoluzione deterministica quindi il problema di fondo è che sgombriamo il campo da probabilità e meccanica quantistica vi dico questo perché il collega decrescenza donno decrescenza che faranno qualche lezione sulla probabilità mi chiese mi telefonò se tu vuoi meccanica quantistica probabilistica io faccio qualche probabilità ti posso raccontare qualcosa utile ai fini di non mi devi raccontare niente perché è un equivoco storico assumere attribuire la meccanica quantistica un discorso probabilistico perché la meccanica quantistica non è probabilistica la descrizione che fate prima è probabilistica ma quella che si fa correttamente è tutto deterministico cioè il determinismo non si perde in meccanica quantistica non si perde in relatività dove il tempo varia in attesta loro figuriamoci meccanica quantistica quindi questo è un equivoco di fondo non si parli di probabilità Einstein invece aveva Einstein era un neopositivista spinto riteneva di poter descrivere tutti i fenomeni in maniera deterministica per cui se questo sta qua sta qua per una qualche ragione però questa ragione talvolta a noi non è accessibile e non essendo accessibile è solo dal contesto della fisica e quindi torniamo al fatto di prima che fa l'elettrone che cos'è l'elettrone domandiamo al posto perché che cosa fa l'elettrone decide la natura l'elettrone diciamo se attribuiamo l'elettrone una proprietà umana decide lui che fare ma quello che fa a priori non ci riguarda è solo dal nostro contesto quello che conta è quello che accade dopo e su quello noi dobbiamo andare a discutere beh di questo poi parleremo la prossima volta e quello che cercherò di evidenziare è questa dicotomia tra il pre e il posto perché è probabilissimo e chiaro quantissimo una descrizione a priori e perché a posteriori non lo è e di fondo fatevelo dire il fisico teorico avendo la presunzione dovrebbe spiegare tutto per garantirsi ci butta tutto dentro e è sicuro che non sbaglierà tutte le possibilità qualsiasi posto sarà seduta a qualsiasi parte bene se uno capisce questo aspetto vi spiegherò poi la prossima volta a valido dirò qualche indicazione sulla meccanica quantistica più moderna quella di attività di ricerca perché Einstein sbagliava vi darò questo tipo di indicazione e contestualizzerò un pochino meglio questa ipotesi di Einstein il quale Einstein giusto per la cronica concludere con una menità aveva discusso queste sue stavano difisime vabbè ma l'ho detto queste sue idee le discuteva profondamente profondamente sui scambi di idee epistolare con Bohr significativo se prendete un libro quantum andate là sopra trovate delle lettere alcune brule animate e lui argomentava e argomentava per esempio attraverso un articolo fondamentale del 1935 nel quale forma il cosiddetto paradosso EPR e dice può la realtà essere spiegato completa in realtà fisica essere completa questo lo dirò la prossima volta l'argomentazione di Bohr diceva no hai torto punto cioè lui argomentava con te no hai torto è andata avanti questa faccenda per molti anni Bohr poi nel frattempo è morto è morto pure Einstein non sono arrivati a una conclusione però Einstein ha inserito un dubbio sulla meccanica quantistica e che comunque ha portato avanti un filone di scienziati che si è avviato attraverso questo percorso oggi come oggi la posizione ortodossa è quella consolidata e la cosa più importante l'ipotesi di Einstein è stata come dire testata sperimentalmente teoricamente e quindi sperimentalmente e ad oggi l'ipotesi di Einstein certamente va buttata via io dico ad oggi perché le leggi fisiche tengono date di scadenza sopra la loro espressione potrebbe arrivare uno di voi che viene modificato però diciamo ad oggi perciò uso questo caveat questa condizione ad oggi questa è la condizione va bene io penso che sia opportuno mi fermi qua grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti